Il gioco d'azzardo è anche per i cittadini aretini, quindi per il nostro territorio comunale, un problema serio. I dati del Lanci certificano che nel 2020, perché il 2021 ancora i dati non sono usciti, sono stati sperperati qualcosa come 121 milioni di euro. Gran parte di questo è dovuto al fatto che chi pensa di giocare ogni tanto, di un'abitudine così, in realtà poi spessissimo questa abitudine diventa qualcosa di cronico. Per cui si parla di gioco d'azzardo patologico. Il gioco d'azzardo patologico è una vera e propria patologia di carattere compulsivo di cui si inizia pensando che si ha un'abitudine ogni tanto, poi diventa invece qualcosa di irrinunciabile. Tenete conto che al CERD di Arezzo, che è il servizio per le dipendenze, sono attualmente in carico 152 persone. Vuol dire che sono persone che se sono in carico al CERD hanno già attivato quel percorso che spesso porta ad investire troppi soldi, perché tu investi x euro, una volta vinci e quindi ci investi ancora di più, poi perdi. Quindi nel tentativo di recuperare il perso, insomma è un meccanismo che non si ferma. E ci sono tantissime persone che finiscono in mano ad usurai, perché sperperano anche il proprio patrimonio familiare, con conseguenze particolarmente pesanti proprio in quella che è la situazione personale. Ripeto, di una malattia, perché il gioco d'azzardo patologico è una vera malattia di carattere neurovegetativo, psicosociale e neurovegetativo, che però ha conseguenze fortissime anche sulla situazione familiare. Quindi questo è un tema importante sul quale serve davvero poter avere un'attenzione importante da parte di chi governa, quindi sia come sensibilizzazione e come informazione rispetto a quelle che sono le conseguenze, ma soprattutto creando anche occasioni dello stare insieme e di benessere che possano evitare che ci sia questa rincorsa, ripeto, che porta ad una vera e propria malattia.